buongiorno e benvenuti nel mio canale se avete già effettuato l'ultimo aggiornamento di windows vi sarete accorti di almeno due novità che sono subito evidenti la prima è quella che nella barra delle applicazioni insieme alla icona dei programmi che stanno girando e ne mostrato anche un titolo per esempio in questo momento sto registrando con camtasia e come vedete qui nell'icona di camtasia c'è anche ricordi se per esempio io apro chrome come vedete c'è la scritta senza titolo poi probabilmente magari come vedete adesso c'è la scritta google perché ho aperto la pagina di google si apre un'altra pagina su chrome ecco che c'è scritto il nome dell'altra pagina quindi nei programmi nelle applicazioni presenti nella barra delle applicazioni si visualizzano anche i titoli delle pagine oppure delle dei processi che si stanno compiendo punte realizzando con quel dato programma questa è la prima novità non so veramente sia o meno utile però interessante poi c'è un'altra novità invece più evidente che è questo widget del tempo diciamo del tempo delle notizie se ci si passa sopra con il mouse ecco che si vedono le ultime notizie che si possono anche scorrere come di primo atto viene mostrato soltanto lo stato del tempo in questo momento sole e la temperatura 22 gradi naturalmente viene anche visualizzata la posizione per mostrare il tempo qui ci sono le notizie principali le notizie secondo microsoft che potrebbero interessarci se si va su altre notizie viene aperta una pagina di edge in cui ci sono altre notizie oltre a quelle che vengono mostrate in questo questo pop up se ci si clicca infatti si vedete si apre edge c'è anche la scritta in microsoft edge che è aperto le mie notizie con notizie più approfondite così ora se noi possiamo anche possiamo personalizzarlo andando qua su gestisci interessi se si va su gestisci interessi si apre un'altra pagina di edge con il nostro account se siamo collegati con il nostro accanto possiamo scegliere gli interessi che ci sono più sono più attinenti alle nostre esigenze per esempio io posso andare su ultime notizie e cosa succede ecco vedete verrà mostrato il baffo e quindi mi verranno mostrate le ultime notizie tecnologia e scienza ecco magari metto il baffo notizie locali magari metto la mia città intrattenimento celebrità tv cinema videogames musica lifestyle moda salute benessere medicina uno ci mette interessi nello sport e quelli che vi piacciono di più e questa è la prima personalizzazione però si può personalizzare anche in altro modo vale a dire io ci clicco sopra e posso andare sulla singola notizia per esempio questa che deriva da tg com clicco qua sul menu e posso scegliere di avere più notizie simili a questa di avere meno notizie simili a questa e di nascondere notizie di tg com se il tg com per esempio a me non interessa avere questa fonte come notizie principali il stesso discorso vale per esempio questa notizia che deriva non riesco a capire da dove deriva eppure vado qua e anche qui posso avere più notizie simili a questa meno notizie oppure nascondi notizie di l l probabilmente è una rivista che onestamente non conosco qui si può mettere importante come si può salvare che si può mettere mi piace questo è il nuovo widget della microsoft non so quanto sia utile però io appresso quando qualcuno fa qualcosa di diverso qui c'è il leggo che questo è a parte della editoria gratuita anche qua si può solamente andare sul menu condividere salvare per dopo più notizie simili a questa nascondi questa notizia oppure nascondi le notizie di leggo perché la fonte non non ci piace e così via naturalmente si può anche cambiare la posizione del del meteo questo caso è florence italy però io posso modificare la posizione quindi oppure andare su altre impostazioni e questo per quanto riguarda la impostazione di questo widget se noi però possiamo anche nasconderlo questo video come si fa si clicca con il resto del mouse sulla barra delle applicazioni e come vedete questa nuova questo nuovo widget si chiama notizie e interessi in questo caso si viene mostrato icona e testo e si apre direttamente al passaggio del mouse infatti se ci passa sopra con il mouse si apre automaticamente adesso del mouse io posso scegliere se per esempio di non aprire più al passaggio del mouse e quindi magari si passa sopra con il mouse e non si apre più per aprirlo ci devo cliccare sopra oppure posso anche impostare diversamente notizie e interessi mostra solo icone e quindi non viene mostrato la temperatura oppure ancora notizie interessi disattiva questo caso sparisce completamente il widget e si ritorna alla situazione iniziale in questo modo se io invece lo voglio rivedere metto molto certo icone e si rivede se queste sono le notizie in questo momento si può andare su aggiorna ma per aggiornare le notizie aggiornali feed e quindi magari avere notizie più aggiornate questo è una notizia che apparsa questo momento ecco di cpm su green pass ma magari adesso si fa un altro aggiornamento allo strade per l'italia torna pubblica prima sull'accordo e così via qui si aggiorna e vengono aggiornati continuamente le notizie dunque può essere utile francamente ma può essere anche inutile si può scegliere dimostrarlo io personalmente sceglierei di non aprirlo a passaggio del mouse perché vorrebbe dare fastidio e magari dimostrare solo l'icona senza testo della della temperatura che chiaramente lascia tempo che trova quindi quando uno vuole vedere le notizie ci clicca sopra qua della notizia principale magari poi le aggiorna di continuo per vedere quello che succede si può si può lasciare oppure si può eliminare come abbiamo visto semplicemente andando su notizie interessi disattiva queste sono delle novità con il nuovo aggiornamento di windows alla prossima volta grazie 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 grazie